Alessandro! Sei che sono per lei! Lascia! Che la mica! Qui qua! Alessandro! Non gridare! E' come la chiarezza! Au! Che ci fa? Ti ho messo qua apposta che non vengo a sentire le grida! Che sono per lei! Che ci fa? Dica! Che ci fa? Vieni fuori da lì! Che la chiarezza! Ok, ma non lo vedi che sta volendo? Madonna! Buongiorno a tutti, siamo tornati, siamo tutti insieme! Io di puttana! Io veramente ogni tanto mi faccio delle domande e non trovo risposte Cosa son venuto a fare? Cosa son venuto a fare? Cosa sono venuto qua a fare? Guarda che te lo chiediamo noi, che cazzo sei venuto a fare?